Ida Platano è tornata a Uomini e Donne mettendo in crisi anche il suo ex, Riccardo, che nei giorni scorsi si è dato alla pazza gioia durante le puntate del Tronover La bella dama è decisa a rimettersi in gioco e tutto lascia pensare che queste ultime settimane di programmazione saranno calde per i due soprattutto alla luce di quello che è successo in passato e potrebbe succedere ancora Chi la spunterà e, soprattutto, riusciranno a trovare un nuovo amore adesso che tra di loro sembra davvero tutto finito? I fan lo sperano ma, intanto, Ida Platano è tornata sui social e non per commentare la puntata ma per dirsi fan di Giulia della Ellis e del suo modo di truccarsi tanto da farlo per controllare il risultato finale Dopo una serie di storie, alla fine Ida è apparsa al massimo del suo splendore per annunciare che si sarebbe struccata Una serata passata così, in attesa dell'amore. Pamela furiosa a Uomini e Donne.Pamela Barretta è davvero una furia La dama del trono over, tra le più corteggiate e apprezzate di Uomini e Donne, proprio non riesce a perdonare il comportamento che Stefano ha avuto nei suoi confronti Nel corso delle ultime puntate del trono over, il pubblico ha infatti assistito al forte scontro tra i due, quando Pamela lo ha visto al centro dello studio per un'altra dama, Roberta Di Padua Cosa che la stupita visto che Stefano le aveva confessato sentimenti importanti nei suoi confronti Ecco perché, nella puntata e dopo la sua conclusione, la dama si è detta furiosa e disposta a mettere un punto definitivo alla loro conoscenza Pamela ha parlato anche ai microfoni del magazine di Uomini e Donne, dove ha ribadito le motivazioni della sua rabbia nei confronti di Stefano, rabbia che in studio l'ha portata anche alle lacrime Pamela furiosa con Stefano, lo sfogo post puntata Stefano ha detto che tiene a me nel momento in cui ha capito che mi sta perdendo Esordisce così Pamela nel corso dell'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne Poi continua, mi ha visto ballare con Riccardo e aveva la coda tra le gambe Nessuno mi toglie dalla testa una frase che ho sentito parlando con le altre, Roberta era la sua prima scelta Ah sì? Andasse da Roberta E aggiunge mi ha detto che non voleva perdermi, ma poteva fare qualcosa di più oltre al teatrino Se è vero quello che ha detto, aspetto un gesto A me pare che non abbia fatto nulla per me, neanche quando mi ha visto piangere Si è mosso solo dopo aver preso il 2 di picche da Roberta Che sia quindi la fine per questa frequentazione Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like